pesce castagna tutto si può dire sul pesce castagna brava brava ma no che sia di bel aspetto classificato da blocca nel 1791 il bramide a corpo alto e appiattito lateralmente blocca obliqua e dotata esternamente di denti uncinati un'unica alta pinna dorsale provvista di raggi mogli e spinosi le squame piccolissime vene incastonate nella parte alta presentano sfumature azzurre mentre lungo i fianchi acquisiscono nuans dorate e argentate anche se sui banchi nelle pescherie sono i colori scuri a prevalere predatori stancabile nel colpo ligure viene pescato corretti da apposta tutto l'anno il periodo migliore però va da maggio a ottobre non era rincontrano mentre nuova insieme alle ricciole o nascosto sotto oggetti galleggianti alla deriva da non componere con il pesce castagnola che non ha alcun valore commerciali a carni eccedenti che si presentano a diverse preparazioni